Federalberghi dice no alla tassa di soggiorno a Bari, oggi la protesta dinanzi alla Camera di Commercio ha lanciato una petizione popolare contro la decisione del Comune. Entrano nell'appartamento per sgomberarlo a seguito di un'ordinanza sindacale e trovano il cadavere dell'anziano che viveva in quella casa, macabra, scoperta stamattina a Foggia. La Polizia di Stato prosegue la sua battaglia contro il cyberbullismo, presentati a Bari, risultati del progetto che ha coinvolto le scuole con l'utilizzo della realtà virtuale per sensibilizzare i ragazzi sui danni di questa condotta sociale. Ben ritrovati, siamo all'edizione provinciale di Bari, Battefoggia del nostro telegiornale, apriamo anche questo notiziario con la cronaca e con l'omicidio di Capurso, proseguono le indagini da parte della procura di Bari che coordina i militari, i carabinieri di Trigiano e di Capurso che stanno lavorando già da ieri, subito dopo l'omicidio che si è verificato tra la gente a Capurso, come dicevamo. Vediamo nel dettaglio quello che è successo, poi vedremo di darvi qualche notizia anche sugli sviluppi delle indagini. E' morto, raggiunto da diversi fendenti al petto, Vito Caputo, 29enne di Mola di Bari, ucciso a coltellate a Capurso al culmine di una lite nel tardo pomeriggio di giovedì 16 marzo. E' successo in via Casa Massima dove la vittima si è fermata al termine di un inseguimento insieme ad altre tre persone, tra cui il suo killer. Gli inquirenti stanno ascoltando tutti i testimoni presenti al momento del delitto, secondo le ricostruzioni. Il inseguimento sarebbe partito, verosimilmente da Celle a Mare o Casa Massima. Qui, durante un primo litigio, una prima persona sarebbe rimasta ferita, sempre a coltellata, trasportata poi all'ospedale di Venere di Bari. La corsa riprende in auto per poi finire a Capurso, davanti al bar classico, in una strada poco lontana dal centro storico della città. Ho visto dei ragazzi che si picchiavano e poi un ragazzo cadere a terra, dice il titolare di un negozio che ha assistito alla scena. E caccia il killer al vaglio degli inquirenti, anche i video delle telecamere presenti in zona. Attorno resta lo sgomento e la paura dei cittadini. E intanto dalle indagini emerge che l'omicidio non sarebbe riconducibile a questioni legate alla criminalità. La lite avvenuta a Capurso è sfociata nell'accoltenamento del 29enne di Mola di Bari, Vito Caputo, morto per le ferite riportate. Le persone coinvolte sarebbero quattro, tutte già note alle forze dell'ordine, come la stessa vittima. C'è un amico coetaneo di Caputo, residente a Mola di Bari, rimasto ferito in modo grave e ricoverato all'ospedale di Venere di Bari. Ferite in modo più lieve e ricoverate in due diversi ospedali altre due persone di Capurso, padre e figlio, con i quali la vittima avrebbe litigato. Gli inquirenti stanno valutando le posizioni di tutte le persone coinvolte. La procura di Bari indaga per omicidio volontario e potrebbe procedere anche per tentato omicidio nei confronti dei feriti. Gli investigatori infine sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica e per capire quanti coltelli siano stati usati. Ricordiamo che la procura di Bari disporrà l'autopsia sul corpo della vittima, ovvero il 29enne Vito Caputo. Adesso andiamo a Foggia, dove c'è stato un macabro ritrovamento. Quest'oggi, in mattinata, alcuni addetti del comune si erano recati in un appartamento di via Mazzini per sgomberarlo, ma hanno fatto la scoperta, hanno trovato privo di vita l'uomo, l'anziano di 80 anni che viveva all'interno dell'abitazione. Vediamo il servizio che è appena giunto da Foggia, realizzato da Antonella Davola. Vediamo se è possibile vederlo adesso oppure andiamo avanti. Parliamo di federalberghi, lo dicevamo nei titoli. Si dice no alla tassa di soggiorno, una vera e propria crociata, quella degli albergatori. Oggi la protesta dinanzi alla Camera di Commercio ed è stata lanciata anche una petizione popolare contro la decisione del comune. Sentiamo. La tassa di soggiorno davanti alla Camera di Commercio, la protesta di federalberghi per chiedere non rimangano inascoltate le richieste del settore alberghiero e dell'accoglienza. La città, spiegano, avrebbe conseguenze negative in termini economici. A Bari è ancora più forte il nostro dissenso perché è una città che ha un elevato tasso di abusivismo e quindi su 1900 annunci presenti su Airbnb sono scadenzate al comune solo circa 350, poi c'è il codice identificativo che ne identifica altri 1500. Ma in realtà quelli che pagano le tasse a Bari sono soltanto 300. Questo significa avere un mercato altamente iniquo e la tassa andrà a influire sugli operatori del settore alberghiero che sono quelli, ricordo, che danno occupazione ai lavoratori. Il secondo punto è l'utilizzo della tassa perché per definizione la tassa è una tassa di scopo e dovrebbe essere utilizzata dai turisti. Noi abbiamo chiesto più di una volta di fare una commissione paritetica e la decisione e le proposte debbano venire dagli operatori turistici che probabilmente conoscono di più le esigenze del turista. C'è stato risposto di no. Noi riteniamo l'introduzione della tassa di soggiorno assolutamente sbagliata per lo sviluppo economico della città. Avrà ripercussioni sui cittadini di Bari questa nuova tassa. Non è che non ci deve interessare perché tanto la pagano i turisti. No, i 2 milioni e mezzo di posta di soggiorno che il comune pensa di introitare non verranno spese nella città in negozi, ristoranti, bar, ma verranno incassati al comune di Bari che poi li spenderà come vuole. Adesso siamo in grado di proporvi il servizio sull'anziano di 80 anni trovato morto in un appartamento a Foggia nel centro del capologo d'Auno in via Mazzini. Sentiamo Antonella Davola. È stato ritrovato morto dopo che di lui si erano perse le tracce da settimane. L'ottantenne Raffaele Lioce, il corpo dell'anziano, è stato ritrovato nella mattina del 17 marzo all'interno del proprio appartamento sito al terzo piano della palazzina di via Mazzini 42 a Foggia in cui viveva solo. A quanto si apprende il corpo è stato trovato nella camera da letto dagli operatori incaricati di sgomberare l'appartamento a seguito di un'ordinanza comunale. L'uomo era un accumulatore seriale di oggetti tanto che l'appartamento si era trasformato in una vera e propria discarica e lui stesso è stato ritrovato sotto una coltre di indumenti e cianfrusaglie varie che accumulava nel tempo libero. Numerose le segnalazioni giunte dai parenti e vicini di casa preoccupati dalla sua sparizione. Del caso si era occupato anche il noto programma televisivo Chi l'ha visto. Nelle scorse settimane erano stati effettuati diversi accessi da parte delle forze dell'ordine che però avevano escluso la possibilità che l'anziano fosse sepolto in casa. Evidentemente la realtà era ben diversa. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Subito dopo il PM di turno ed il medico legale. Mettiamo da parte la cronaca. Adesso ci occupiamo di economia. Bari presso la sede di Confindustria si è tenuto un vertice per parlare delle direttive dell'Unione Europea sui temi della sostenibilità legata alle piccole e medie imprese. Vediamo il servizio di Ilaria Delvino. Anche le aziende devono essere al passo con il Green Deal e le regole di sostenibilità ambientale. La rapida evoluzione delle direttive dell'Unione Europea sta inducendo il sistema produttivo a partire dalle grandi imprese nazionali a modificare la propria trasparenza sui temi ambientali e sociali. Se le grandi imprese sono già oggi vincolate, le più piccole dovranno adeguarsi per poter lavorare con loro. È questa la strada da percorrere per il contrasto al cambiamento climatico. Ogni azienda deve dotarsi di un efficace sistema di valori e regole da adottare nella catena della fornitura. Se ne è parlato nella sede di Confindustria Bari e Batta Bari in occasione di un incontro organizzato dalla sezione terziario innovativo e comunicazione. Il tema della sostenibilità è diventato il tema urgente che consegniamo alle nuove generazioni. La Commissione Europea ha inteso consegnare all'impresa, al sistema produttivo, il modo per reagire e per cambiare, mitigare gli effetti dannosi che stiamo avendo sul clima e che registriamo sul clima. Le grandi imprese, attraverso la loro catena di fornitura, possono influenzare il comportamento anche delle piccolissime imprese e dei territori. Questa è una grande responsabilità che come sistema delle imprese sentiamo e oggi con il convegno che stiamo celebrando qui in Confindustria intendiamo dare indicazioni operative su come organizzarsi. Le aziende pugliesi sono molto sensibili al tema, non è un caso che la Puglia sia una regione ritenuta attrattiva sotto tantissimi punti di vista, prova ne è la grande attrattività sugli investimenti produttivi che sta attraendo in questi ultimi anni e riteniamo che sul tema dell'ambiente possiamo giocare un ruolo davvero importante. Generazione Parità, questo il tema di un incontro che si è tenuto oggi a Foggia per parlare tra le altre cose anche di formazione alla presenza dell'assessore regionale a Ramo, Sebastiano Leo. Ciao, mi chiamo Anna e per me questa esperienza è stata eccezionale, la rifarei altre mille volte perché è un'esperienza unica. Generazione Parità è il ruolo della formazione professionale nella valorizzazione delle competenze, un evento a Foggia che parla di parità associando la formazione a ragazzi e ragazze pari e diversi allo stesso tempo in occasione del termine del corso di formazione operatore del benessere dell'ente formativo ENAIP che considera uno dei traguardi principali da raggiungere quello dell'inclusione di giovani che spesso provengono da contesti familiari caratterizzati da uno svantaggio socio-economico e che si trovano in forte povertà educativa. Mi chiamo Jasmine, ho scelto questo corso perché mi piacerebbe fare l'estetista. Questo corso dura tre anni e avremo una qualifica di estetica e mi piacerebbe lavorare nella mia città perché è un lavoro che amo. Quindi la scuola di formazione ENAIP che di Foggia garantisce questo ai ragazzi, quindi un'accoglienza, un percorso educativo e avere nelle mani un mestiere che sia una garanzia per tutta la propria vita. Che ragazzi sono, che provenienza hanno a livello sociale? Sono ragazzi che generalmente hanno una realtà di base non favorevolissima ma che hanno grandissime risorse anche proprio umane, personali, di volontà e di desiderio anche di costruire qualcosa, a volte anche di riscatto. Quindi hanno una motivazione forse anche in più rispetto ad altri ragazzi. E poi sono ragazzi che magari non avevano trovato nella scuola in alcune circostanze forse l'ambiente ideale per il proprio percorso di apprendimento. Mentre qui con una formazione appunto che parte dall'esperienza, anche dalla valorizzazione delle capacità, delle attitudini e dei talenti, ecco si riappassionano allo studio e quindi recuperano anche proprio una passione per l'apprendere, per la cultura anche di base. Quindi non soltanto per le competenze tecniche fondamentali ma anche per l'educazione in senso più ampio. Andiamo nella batta adesso precisamente ad Andria dove sono stati istituiti dei posti di controllo dei presidi veri e propri nei pressi dell'ospedale Bonomo. Ce ne parla Antonio Gargano. Maggiori controlli e presidi delle forze dell'ordine intensificati al Bonomo di Andria. La decisione che interesserà dai prossimi giorni l'ospedale del Comune Federiciano è arrivata durante l'ultima riunione in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un provvedimento che è stato preso per tutelare il personale medico e sanitario del nosocomio, recentemente vittima di aggressioni da parte di pazienti e familiari degli stessi degenti. L'incontro si è svolto alla presenza delle istituzioni del territorio, della direttrice generale dell'AS della BAT Tiziana Di Matteo e del questore della BAT Roberto Pellicone. Nonostante i dati registrati nella sesta provincia pugliese siano nella norma, l'affluenza intensa rispetto agli spazi del Bonomo ha portato alla scelta dell'ente provinciale che oltre ai maggiori controlli istituirà anche un presidio fisso della Polizia di Stato all'interno dello stesso ospedale. Un primo passo di collaborazione tra le forze dell'ordine e la direzione AS della BAT. Cambiamo argomento adesso, la realtà virtuale contro il cyberbullismo, ne parlavamo durante i nostri titoli. Il progetto della Polizia di Stato entra nelle scuole come è accaduto questa mattina a Bari. Vediamo il servizio. Un progetto dedicato alla legalità per prevenire comportamenti antisociali tra i giovani, promosso dalla Polizia di Stato, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma. Forze dell'ordine e il gruppo di ricercatori si sono dati appuntamento all'Anche Cinema di Bari, nell'ambito del tour nelle città principali del Mezzogiorno d'Italia, per sensibilizzare i giovani sull'emergenza cyberbullismo nelle scuole. Si fa con un'attività interattiva, mettersi nei panni della vittima o vivere sulla propria pelle le intenzioni dell'autore attraverso l'uso della realtà virtuale immersiva, con l'obiettivo di prevenire condotte illecite. E questo è il cuore del nuovo progetto dal titolo Hashtag nei panni di Caino, finanziato con fondi del PON e legalità del Ministero dell'Interno. E le scuole, devo dire, hanno risposto in maniera positiva perché hanno accettato di essere protagoniste di questo progetto, hanno utilizzato le nuove tecnologie per far vivere un'esperienza immersiva agli studenti che si sono trovati in scenari di bullismo e di cyberbullismo e quindi hanno potuto testare la loro reazione a questi scenari, come se fosse nella vita quotidiana. Per l'attenzione e l'uso consapevole degli strumenti informatici, di internet, internet è come un'autostrada. Si possono raggiungere delle mete in brevissimo tempo, però come tutte le strade bisogna rispettare le regole e soprattutto soccorrere chi è in difficoltà. Prendiamo nella BAT a Trani e parliamo di sociale perché in questa città si va verso un nuovo sistema di welfare. Nella biblioteca comunale infatti nasce uno sportello che ha l'intento di aiutare gli enti del terzo settore al fine di intercettare bisogni espressi dalla comunità territoriale. Maria Fiorella. Pensare e ragionare insieme sulle proposte, sui temi, sulle norme e poi capire insieme in che modo agire. Le istituzioni hanno bisogno del terzo settore, del mondo dell'associazionismo, l'insieme degli enti privati che senza scopo di lucro promuovono e realizzano attività di interesse generale. L'associazionismo e il mondo del terzo settore hanno bisogno invece di essere legittimati e guidati dalle istituzioni. A Trani si va verso un nuovo sistema di welfare. Nasce perciò lo sportello per il volontariato presso la biblioteca comunale Bovio con l'intento di aiutare gli enti del terzo settore a intercettare i bisogni espressi dalla comunità territoriale. Accompagnare tutti gli enti del terzo settore nella possibilità appunto di intercettare bandi, finanziamenti ma in generale in un percorso di formazione. Una grande opportunità, che peraltro realizziamo nella nostra biblioteca comunale. Forse il luogo meglio deputato a far questo. Fornisce informazioni su bandi e normative, divulga i servizi erogati dal CSV San Nicola, crea e anima momenti di confronto sui temi del volontariato con l'obiettivo di facilitare la creazione di reti. Promuove inoltre le iniziative del territorio per dar risalto alle attività e all'impegno quotidiano del terzo settore e risponde alle richieste di quanti desiderano diventare volontari. Un contenitore pensato per mettere in rete tutte le straordinarie realtà del territorio, dalle associazioni di promozione sociale alle organizzazioni di volontariato, dagli enti filantropici alle imprese e cooperative sociali, oltre che reti associative. E potere in questa maniera potenziare le attività e l'ambito di intervento di ciascuna realtà a vantaggio dei cittadini. E adesso ci occupiamo di un documentario per raccontare il flagelo della Xilella. Ricordiamo che si celebra, senza festeggiare nulla ovviamente, il decennale dell'arrivo del batterio. Sentiamo Antonella Fazio. In Puglia è in corso la più grave pandemia botanica del secolo. Un batterio, la Xilella fastidiosa, sta uccidendo milioni di alberi di olivo, stravolgendo paesaggio, economie e relazioni umane. Una pellicola racconta il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella piana degli olivi monumentali, laddove è imminente l'arrivo dell'epidemia. Dovrà a spiegare all'anziano contadino come la loro vita verrà sconvolta da questo batterio invisibile. E' il tempo dei giganti, il nuovo docufilm di Davide Barletti e Lorenzo Conte, che in questo modo portano avanti il racconto del territorio pugliese e della sua comunità. Girato tra Bari, Valle d'Itria, Liste, Erchie, Lecce, Brindisi, Otranto e Castellana Grotte, la pellicola ha visto l'impiego di 20 unità lavorative pugliesi. E' un film doloroso, tragico, perché racconta questi ultimi dieci anni in cui il batterio Xilella, insieme a tutta un'altra serie di concause, ha sterminato 11 milioni di alberi. E' un grido d'allarme e noi speriamo che con questo film, che questo film possa riaccendere l'attenzione dell'opinione pubblica su veramente una delle più gravi emergenze fitosanitarie di questa terra. Era molto difficile fare un film che riuscisse nello stesso tempo ad informare, a consentire a un pubblico, diciamo, normale di accedere a delle risposte sui quesiti tecnico-scientifici e nello stesso tempo ad emozionare. Prosegue lo stato di agitazione delle RSA pugliesi. Il presidente di categoria Antonio Perugini ha scritto anche un libro per invocare attenzione sulle criticità che il settore sta affrontando su tutto il territorio regionale pugliese. Prosegue l'interlocuzione tra RSA, centri diurni e Regione Puglia sull'emergenza risorse, problema che affligge tutto il sistema sanitario del territorio e che si fa particolarmente pesante nell'ambito dell'assistenza agli anziani e ai disabili. Non si arrende il presidente di Welfare a Levante, Antonio Perugini, che prosegue a gran voce con le ragioni di un comparto, che chiede di essere ascoltato e ha bisogno di risposte concrete e immediate. Noi abbiamo fiducia verso l'assessore palese. Sta facendo un grande lavoro, un grande impegno, pur sapendo di aver trovato una situazione davvero molto difficile da gestire con tutta una serie di errori fatti. Quindi abbiamo fiducia affinché lui riesca a imporre con la sua sapienza, con la sua competenza, una nuova visione, perché è questo che è mancato fino adesso alla Regione Puglia, una visione del sistema. Le difficoltà dell'RSA sono contenute anche nel suo libro Il delitto perfetto, che parla dell'RSA dopo la pandemia, del caso Puglia e delle soluzioni possibili. Il delitto perfetto è una riflessione costruttiva rivolta alle istituzioni affinché possano osservare questo settore non più come un settore di serie B, ma come un settore essenziale per la tenuta dei livelli essenziali di assistenza, particolarmente dedicata agli anziani non autosufficienti e ai disabili. Ho fatto un'analisi etica in particolare, che guarda al mondo della non autosufficienza come la sfida, la sfida di questo millennio, dove abbiamo l'obbligo di assicurare protezione e servizi alla parte più fragile della popolazione. Torniamo alla BAT perché nasce un nuovo servizio, quello di consulenza per confesercenti. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Un contenzioso durato anni tra il comune di Biceglie ed una società concessionaria inadempiente, nel mentre la struttura al centro della controversia è finita in stato di abbandono, una storia che pare essere giunta al termine per segnare un nuovo punto di ripartenza. Il primo cittadino di Biceglie ha ripreso in consegna le chiavi di accesso alla piscina comunale che dal 2009 erano state affidate alla società che in questi anni non avrebbe operato nella finalità concordata. Preso atto della inadempienza rispetto all'obbligo di custodia del bene, il comune ha disposto la risoluzione del contratto di concessione, invitando la società a riconsegnare l'immobile. L'amministrazione Bicegliese, ben 14 anni fa, affidò la progettazione con gestione funzionale ed economica del complesso, costituito da piscina, palestra e centro benessere, ad una società privata che si impegnò ad eseguire a sua cura e spese tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dove è necessario al completo rinnovo degli impianti, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico delle opere. Non tutto però nel tempo è andato come previsto, con una lunga serie di criticità via via emerse. Allo stato attuale la struttura è in totale stato di abbandono e fortemente vandalizzata. A fronte di questo il comune ha diffidato la società a porre in essere tutte le azioni volte al ripristino completo della fruibilità. Inoltre, al fine di evitare future intrusioni e conseguenti atti vandalici, ha disposto il blocco di tutti gli infissi esterni e la sostituzione della serratura di ingresso della struttura. E adesso restiamo nella batte perché dobbiamo parlare di un campionato di vela che animerà e la costa tranese. Ancora Fiorella. E alle porte il trofeo Italia Ioz di Puglia. La regata, in programma dal 30 marzo al 2 aprile, si svolgerà a Trani. Giunta alla sua quinta edizione, la Coppa dei Campioni è considerata la più importante manifestazione annuale di vela d'altura dell'ottava zona FIV. La bellezza del porto, tutto quello che c'è intorno a Trani, ha attirato l'attenzione di partecipanti che vengono da diverse parti d'Italia. Abbiamo campioni del mondo, campioni italiani che vengono a regatare qui, oltre ai nostri campioni pugliesi. Alla competizione parteciperanno i migliori equipaggi di vela d'altura pugliesi, classificati ai primi tre posti delle classi crociera regata e Gran Crociera ORC, dei rispettivi campionati invernali d'area. È molto importante ospitare questo evento che ha sicuramente un interesse a livello anche nazionale, pur essendo legato al campionato pugliese. La città spero che offra agli atleti che verranno a regatare qui uno spettacolo che li soddisfi appieno, considerato che il porto è al centro della città e quindi avranno la possibilità di vedere da vicino il territorio tranese. Oltre alle imbarcazioni qualificate di diritto, potranno partecipare le imbarcazioni che si sono distinte per i risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale. Abbiamo sempre ritenuto che la bellezza del nostro territorio dovesse essere coniugato con una serie di attività che facessero risaltare non soltanto la vocazione marinara del nostro paese, ma anche le bellezze, il turismo, lo sport. Mamme, amore e fornelli è questo il tema di un'iniziativa sociale, ma anche culinaria. Vediamo. Mamme, amore e fornelli, un'iniziativa che ha consentito di dare ampio spazio al sociale, mettendo alla prova soprattutto le donne con gli aspetti più affascinanti e interessanti della cucina, peraltro dolce metafora della vita di tutti i giorni anche sotto l'aspetto professionale ed impreditoriale che poi è quello che è stato trattato. Cento quelle coinvolte, le signore baresi si sono iscritte immergentosi in un percorso durato cinque mesi, venti ore di teoria e quaranta di pratica, durante il quale hanno acquisito competenze tecniche. Al Redentore di Bari le premiazioni, l'evento è stato patrocinato anche dal comune del capoluogo pugliese. Il bilancio è molto positivo, è stata una bella esperienza, una bella esperienza con questa tanta mamme in cui hanno acquisito tutte le tecniche della cucina e dalla BC fino alla pasticerie avanzata, quindi per me è stato un grande orgoglio e una grande soddisfazione. Ho collaborato più che volentieri, è stata un'emozione, è stata un'esperienza estremamente piacevole da cui esco sicuramente arricchita. Abbiamo esercitato uno spirito di sorellanza che ci ha portato al di là delle nostre stesse aspettative, è stato veramente piacevole. Chiudiamo così questa edizione del nostro TG dedicato alle province di Bari, della Batte Foggia, tra poco il TG dedicato a Taranto e poi Brindisi e Lecce. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.